Ehi! Tu! Ehi! Tu! Ehi! E non tiro il corpo! 1. Non me la devo fregare di questa parte qui! Vi concentro come se... come se stessi parando, invece di andare indietro con la sinistra andarsi indietro con la garba contare e per cui il corpo avanti! Perché? Se stessi parando, se stessi parando aiutare la macchina, allora si vieni a casa! Alla spalla la macchina! Alla spalla la macchina! Quindi? 3! Quindi, 1! Ok! Ma aspetta, aspetta, aspetta! Questo è quello!